Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Serie B, la partita di ieri pomeriggio, ovvero Ascoli-Bari terminata 2-2 una gara per uno spettatore neutrale francamente piuttosto divertente. Mi sono infatti divertito vedere una gara nella quale nel primo tempo il Bari è andato via rapidamente con un 1-2 molto ficcante, approfittando degli errori individuali di Falasco e di qualche imprecisione in difesa dell'Ascoli. Il secondo gol del Bari è spettacolare, è veramente pregevole in fase di costruzione. Ascoli che ha fatto fatica, faceva fatica, non riusciva a essere propositivo davanti, a mettere in difficoltà la retroguardia del Bari, un Bari che mi sembrava anche da un punto di vista emotivo finalmente essere sul pezzo, essere quella squadra che mi aspettavo potesse essere nel corso della stagione e che ci aveva dimostrato anche la settimana scorsa nella partita contro la Ternala. Poi nell'intervallo è cambiato tutto, le mosse di Castori sono state sicuramente vincenti, ha inserito Nestorowski al posto di un Balzania non ancora particolarmente protagonista e soprattutto ha tolto Falasco e ha messo Celia sulla fascia che ha giocato piuttosto bene e credo possa ambire in questo momento anche a un ruolo da titolare. L'Ascoli del secondo tempo è l'Ascoli che mi aspettavo, francamente è l'ascoli è il tipo di squadra che io vorrei fosse sempre la squadra per il quale dovessi essere tifoso, perché gioca con il cuore, gioca con la grinta, non giocherà il calcio dei tempi moderni, dei passaggi all'indietro, del cerchio magico, del possesso di palla, ma chi se ne frega? Lancio lungo del portiere e combattimenti, giocatori che vanno, ringhiano e riescono a crearsi in queste occasioni. Pari ha avuto la palla per mettere la partita in ghiaccio, un bellissimo contropiede, il tiro di Nasti ha visto Viviano molto bravo a mettere il pallone in calcio d'angolo, Marino credo che dopo un gran primo tempo abbia sbagliato le sostituzioni, ha tolto Callon credo troppo presto, per quanto magari il ragazzo ancora non abbia minuti nelle gambe, Puskas il suo debutto ci ha provato, ha combattuto, ha fatto quello che doveva, ma probabilmente non è ancora così pronto, Puccino sicuramente, voi sapete, io sono un tifoso di Puccino e non cambio certo idea dopo una brutta partita del giocatore, oggi ha avuto in questa gara, ha avuto veramente un brutto impatto, provoca il rigore, il rigore dell'1-2 nel quale Pietro Mendes è molto bravo a realizzare e poi Lascoli trova nel finale anche il punto del pareggio, ancora con Mendes, doppiata del portoghese, che si è scoperto essere un grande goreador, grazie soprattutto anche a un'altra ottima mossa di Castori, ovvero l'ingresso dei Duffizi, questo giovane ragazzo che devo dire contribuisce molto a cambiare la partita e dare nuova dinamicità all'Ascoli che probabilmente nel finale di gara quasi avrebbe potuto anche ambire a portare a casa un successo che avrebbe potuto anche meritare. Quindi questa partita ci ha detto una volta di più, l'Ascoli è una squadra in questo momento, con questo tecnico, sicuramente motivata e sicuramente una squadra che ha tutte le carte in regola per essere competitiva per la lotta sulla salvezza. Gli acquisti mi piacciono, mi stanno piacendo, i giocatori arrivati, Weissanen soprattutto, un giocatore che ho già ammirato nelle sue precedenti esperienze italiane, trovo che abbia giocato una partita molto positiva lì dietro a dare ulteriori solidità a un reparto difensivo che può essere interessante in questa seconda parte della stagione. Ma poi soprattutto c'è un Masini che sta crescendo, trovo che abbia giocato una partita molto molto positiva in questo frangente e, come già dice Lia, che sicuramente potrà essere molto utile. Bene, anche Nestorowski, quando è entrato nella ripresa di davanti, ha sicuramente aiutato la squadra ad avere maggiore profondità e poi soprattutto ha questo valore aggiunto rappresentato dal mister, che è un allenatore capace da un punto di vista tattico e capace soprattutto di trasmettere questa grinta. L'Ascoli è una squadra, è un unicum, giocare contro l'Ascoli è un'esperienza che non si ha contro le altre squadre di un campionato che alle volte è magari un po' troppo compassato. Viceversa per il Bari, credo che sia un'altra tappa di questa stagione un po' calvario, che nonostante tutto vede la formazione bianco-rossa lì al decimo posto, 27 punti a meno 2 della zona playoff, mentre l'Ascoli in questo momento sarebbe retrocesso, 18esimo con 19 punti, ma con 3 punti nelle ultime partite e 6 punti nelle ultime 5 giornate, quindi un buon ruolino comunque nelle ultime gare per gli uomini di Castori. Il Bari manca sempre il centesimo per fare l'euro, come si suol dire, manca sempre quella punta di cattiveria, magari di cinismo nel riuscire a portare a casa un risultato, una partita che era perfettamente incanalata come questa nel corso del primo tempo. Invece il Bari ha faticato molto nel corso del secondo tempo, si è fatta raggiungere, ma più ancora che dal punto di vista del punteggio, che poi oltretutto è finita, la partita è finita in parità, proprio da un punto di vista emotivo ho visto un Bari mano a mano lasciare un po' troppo il controllo del gioco e sfuggire un po' dal capo. Questa mancanza di cattiveria è un dato che abbiamo già conosciuto nel corso della stagione, certo un Bari è anche poi privo di Cesare, dove mattino trovo non abbia giocato neanche una partita negativa, Ben Ali mi è piaciuto molto, sapete il grande tifoso io personale di Ben Ali trovo abbia giocato soprattutto nel primo tempo, quando il Bari stava giocando molto bene, un'ottima partita, ma credo in generale sia stato uno dei migliori, e Giuma ha realizzato molto bene completando l'azione bellissima del secondo gol, è stato protagonista, poi però si perde ogni tanto in leziosi palleggi che poco hanno a che fare, soprattutto in una gara come quella contro l'Ascoli, dove al contrario gli avversari sanno essere così attivi a ringhiare, forse è Giuma nel secondo tempo, soprattutto qualche errore di troppo lo ha fatto. Il Bari mi rimane sempre lì, ne abbiamo già parlato tante volte anche con voi amici di quelle che possono essere le prospettive di questa stagione a vivacchiare, questa stagione che sembra proprio non voler decollare mai, francamente sia la gara con la Terlana che ancora di più questo primo tempo molto positivo della partita contro l'Ascoli, mi stavano facendo pensare a un Bari cambiato, è un Bari che possa essere in grado di diventare veramente protagonista. Vediamo quello che succederà nel resto della stagione, questi sono comunque due punti sicuramente per quello che era il primo tempo persi per il Bari, poi per come si è messa la partita nel finale si può quasi dire che il punticino possa andare bene, perché l'Ascoli così volitivo, così determinato nel secondo tempo è andato veramente vicino anche a vincere la partita. Nel weekend gare interessanti come sempre nel campionato, per il Bari c'è la Reggiana che in questo momento è particolarmente in forma quindi sarà una partita sicuramente interessante, viceversa mi piace molto e credo di riuscire a metterla in calendario da vedere la gara dell'Ascoli che sarà sul campo del Como, una squadra in questo momento altrettanto in forma, una squadra il Como che sta ambendo al passaggio diretto anche alla Serie A per cui sarà una gara assolutamente da non perdere, sono curioso di vedere l'Ascoli con il suo spirito, con la sua voglia, con la sua determinazione che gara riuscirà a mettere in essere sul terreno del Como. Attendo i vostri commenti ragazzi, intanto vado con le mie pagelle, se è in mezzo a Viviano perché a momenti parava il rigore e poi è stato decisivo nella bella parata su Nasti nel secondo tempo. Sette a Vaisanet, sei e mezzo a Botteghine, sei a 40, sei a Falzerano, sei a Di Tacchio, cinque e mezzo a Valzania come detto ancora non perfettamente inserito, sette a Masini, molto bravo, quattro purtroppo a Falasco che è un giocatore nel quale tanti altri video che ho fatto dell'Ascoli è un giocatore che fondamentalmente a me piace anche per il grinta e per voglia di impatto sulla gara, però sinceramente è un pomeriggio proprio brutto per lui. Sette e mezzo a Mendes, cinque e mezzo a Rodriguez, dei subentrati sei e mezzo a Nestorowski, sei e mezzo a Cedia e sette all'ottimo Duffizi. Bravo Castori, voto alla fine per lui, è sei e mezzo. Per quanto riguarda il Bari, sette a Brenno, per larghi tratti una delle migliori partite peso dell'anno. E per il portiere del Bari, sei a Van, sei a Matino, sei a Vicari e sei a Ricci. Comunque sei e mezzo a Ejumat perché secondo me il primo tempo era molto positivo, poi sicuramente il caldo della ripresa gli vale un abbassamento del voto. So che un amico stivana scorsa aveva contestato il fatto che avessi valutato la partita di Ejumat al pari di quella di altri giocatori validi. Forse ho un po' un debole anche per questo giocatore, ma francamente le sue prestazioni mi sembrano in questo momento piuttosto positive. Ecco, si ha distrutto completamente la postazione. Sette e mezzo a Benari, sei e mezzo a Maita, sette a Callon. Bravo, Callon è veramente un arrivo di grande qualità. Sei e mezzo a Nasti e sette a Sibilli. Per quanto riguarda Marino, il voto alla fine per me è un cinque e mezzo perché non mi hanno convinto le sostituzioni nel secondo tempo dove per Pushkas c'è sei, per Puccino stavolta c'è un cinque. Il voto a Gersini alla fine per me è sei e mezzo, partita discreta, 35 falli, 9 ammoniti e poi anche in questo caso qualcosa di diverso rispetto dal solito. Pronti via, battaglia subito, una partita nella quale è dovuto intervenire con decisioni già dall'inizio, sicuramente non ha azzeccato tutte le decisioni, non tutte le decisioni sono state corrette, però era una partita nella quale si aveva molta attenzione e penso sia stato bravo in questo. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, fate iscrivervi ai vostri amici e aumentiamo la nostra comunità. Alla prossima, ciao a tutti e un bacio da ROX.